Giovedì 27 ottobre, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 alle 7.30 del mattino. Come di consueto c'è la rassegna stampa, diamo un'occhiata ai quotidiani del giorno, quindi il resto del carino e il Corriere Adriatico che hanno gli inserti della provincia di Peso Urbino. Prima di cominciare la rassegna, chiaramente vi anticipo che parleremo anche del terremoto con le ultime della notte, ma diamo subito la comunicazione di servizio che rispetto a ciò che avevamo detto ieri sera nella lunga diretta che è terminata 30 minuti dopo la mezzanotte e nella quale abbiamo sentito quasi tutti i sindaci della provincia di Peso Urbino sulla questione delle scuole, c'è un aggiornamento che è arrivato appunto in piena notte che riguarda il comune di Cartoceto e allora anche il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi ha deciso dopo essersi consultato di tenere per la giornata di oggi in via precauzionale le scuole chiuse, quindi anche a Cartoceto le scuole sono chiuse. Andiamo a vedere il santo del giorno subito, il santo di oggi e poi andiamo a vedere le previsioni del tempo, se il santo ce l'abbiamo, se no eccolo qua. Allora, Sant'Evaristo, Papa e Martire, il sole è sorto alle 7.38 e tramonterà alle 18.06. Prima di andare, anzi no, andiamo a vedere subito il tempo, dai, in ordine, cielo sereno, questa mattina inizialmente nuvoloso, ma abbiamo visto già che le nuvole si sono spostate a largo, al mare e verso il sud della regione, quindi mano a mano scenderanno giù questa perturbazione. Per il momento, questa mattina avremo sole su quasi tutta la regione, le temperature sono in diminuzione. Per la giornata di domani, venerdì 28 ottobre, cielo sereno su tutta la regione, con temperature in diminuzione alle minime. Sabato, tempo soleggiato su tutta la regione Marche, vedete, con temperature in aumento nei valori massimi. Tempo stabile su tutta la regione, anche lunedì, martedì e mercoledì. Andiamo a vedere adesso il sito internet, occhiolanotizia.it, il nostro sito internet con gli aggiornamenti, vedete in prima pagina, gli aggiornamenti della notte e allora lo facciamo subito, diciamo subito che per fortuna non ci sono vittime in questo terremoto, soltanto tante persone che hanno dormito l'addiaccio, sicuramente fuori casa, soprattutto man mano che ci si avvicina alla zona dell'epicentro. C'è soltanto un morto, ma un morto per infarto, un uomo di 73 anni, è morto per un infarto a Tolentino, probabilmente per lo shock provocato dal terremoto. Si tratta della prima vittima in diretta del sisma. Evacuati tre ospedali, quelli di Tolentino, Matelica e Cingoli, poi sempre sul nostro sito internet le notizie della notte, 60 sono state le scosse tra le 19.10 e le 23. Le ultime due scosse di magnitudo superiore al 4.0 sono state registrate tra le 5.50 e le 6 di questa mattina, una scossa di 4.1 alle 5.19, l'ultima alle 5.50. Notte trascorsa all'aperto un po' in tutti i centri della provincia di Macerata. Questo è il sito internet, adesso andiamo velocemente a leggere i giornali, dice tutto la pagina del Corriere Adriatico, con la fotografia grande e il titolo, eccolo qua, Ancora tu maledetto, doppia violenta scossa di terremoto a distanza di poche ore, crolli e danni, epicentro nella provincia di Macerata, il sindaco di Usa, dice apocalittico. E tutte le pagine, gran parte delle pagine dell'edizione marchigiana del Corriere Adriatico oggi si raccontano di questa giornata terribile che ha fatto ripiombare nella paura alle 19, poco dopo le 19 di ieri, tante tante persone. Speriamo che Dio si calmi. Poi, visso, visso shock, una bomba atomica, pesero la gente in strada, due repliche, un'anomalia, dopo due mesi l'incubo è tornato. Allora, velocemente passiamo in rassegna tutte le pagine, alcune delle pagine, i titoli del Corriere Adriatico. Vedete, qui c'è la cartina, la cartina con il sisma del 24 agosto e quella, la scossa di ieri. Profondità 9,3 km, epicentro Castel Sant'Angelo sul Nera, in provincia di Macerata. Magnitudo 5,4, ma abbiamo detto la seconda più forte di 5,9. Scosse da paura, torna l'incubo, violento sciame sismico con epicentro nel versante maceratese. Poi, ancora, torna il terrore in tutte le marche, appunto, visso, preci in ginocchio, i sindaci, una situazione spaventosa, riaperta la tendopoli ad Arquata del Tronto, migliaia di persone passano la notte in strada. Come una bomba atomica, invece, la seconda scossa, ha trovato tanta gente in strada e nelle piazze, testimonianze drammatiche, il centro di viso transennato, i principali collegamenti bloccati, molti dormono in auto oppure alla Croce Rossa italiana. Ancora dal Corriere, paura in tutta la provincia, gente in strada a Pesaro, evacuati il Teatro Rossini e gli edifici di Cinque Torri, stessa sorte a Urbino per il Sanzio, verifica il Duomo, telefoni in tilt, rassicurazioni sui social network e su WhatsApp. Oggi scuole chiuse in molti comuni, le due scosse si sono avvertite dalla costa all'entroterra, c'è chi ha dormito in auto. Notte in bianco, anche a Fano, sono stati vissuti lunghi momenti di ansia e di timore. In preallarmi i vigili del fuoco e la protezione civile, Saverio Olivi, presidente del CB Club, Enrico Mattei, si è messo subito in contatto con i suoi volontari all'Arquata del Tronto per inviare nuovi rinforzi. E ancora scosse anomale. Ora siamo da capo. L'analisi di Gaetano De Luca, responsabile di monitoraggio antisismico in Abruzzo, due eventi in sequenza, quattro ravvicinati in un paio di mesi, è davvero una situazione mai vista. E che cosa dobbiamo aspettarci? La domanda di Rito nei prossimi giorni risponde l'esperto. Difficile dirlo con certezza. Direi che si ricomincia da capo. Ci sarà tutta la parte delle repliche sismiche che durerà mesi. E va ricordato che quella di ieri non era una replica, non era lo sciame sismico, non c'entra nulla. Questo è un nuovo terremoto. La chiamata del Premier, coraggio, il Governatore ha raggiunto Arquata del Tronto, Luca Ceriscioli, al telefono con il Premier Matteo Renzi e con la protezione civile. Questa è una foto d'archivio di qualche settimana fa, dove appunto Renzi stringe la mano, come a dire, forza e coraggio, al Presidente della Regione, Luca Ceriscioli. Un inferno come due mesi fa, il 24 agosto, in piena notte, la scossa di terremoto devastò i borghi marchigiani sugli Appennini. Ad Arquata e Pescara del Tronto, 51 morti, centinaia di feriti. Il Governo ha stanziato 4,5 miliardi. Ma lo ricordiamo, per fortuna, non si contano vittime in questa seconda mandata di scosse sismiche. Petrucci, che disastro, gli sfollati alla Casa del Parco, siamo ad Arquata del Tronto, trasferiti d'urgenza dopo le scosse negli alberghi della Costa. Altre abitazioni sono venute giù a Pescara del Tronto, ma temo il crollo psicologico degli Arquatani. Tra l'altro lo avevamo visto, il Sindaco lo abbiamo intervistato, lo abbiamo visto un po' più sareno, un po' più tranquillo nei giorni scorsi, quando è venuto a salutare, a ringraziare i fanesi in occasione anche della festa della protezione civile di Fano. Ha portato via anche un assegno con i fondi raccolti durante le tante iniziative a favore appunto di questo comune fortemente colpito. Lo avevamo visto un po' più sereno, un po' più tranquillo, dopo tutto quello che ha passato da quel 24 di agosto, ieri, oggi è di nuovo in diretta su tutti i Tg nazionali all'Arquata per raccontare quest'ennesimo incubo che sta vivendo lui e la sua, chiaramente, popolazione. Andiamo avanti velocemente con i giornali, sempre sul tema del terremoto. Vediamo la prima pagina del resto del Carlino, due scosse è terrore, terremoto alle 19.11 e alle 21.18. Gente in strada, qualcuno ha dormito in macchina, Fano fabbrica a fuoco, oggi scuole chiuse a Pesero in diversi comuni dell'entroterra. Questa è la prima pagina del resto del Carlino di oggi. Entriamo allora a vedere una delle due pagine dedicate alla sisma, gente in strada, Fano fabbrica a fuoco, il sindaco Ricci decide scuole chiuse, in serata anche serie Gambini seguono la decisione di Pesero. Molti clienti pesaresi hanno interrotto la cena alla prima scossa, fuggendo fuori, qualcuno ha deciso di ripartire. Questa è la dichiarazione dei gestori degli alberghi che hanno appunto registrato queste partenze anticipate da parte dei clienti. Cambiamo e chiudiamo dunque la parentesi del terremoto, vediamo le altre notizie. Torniamo sul Corriere Adriatico, apriamo la pagina di Fano. Pubblicati i redditi dei politici, in testa c'è l'assessore Cecchetelli, la responsabile del bilancio ha dichiarato 95 mila euro, secondo il vice sindaco Marchegiani. Il sindaco invece percepisce 45 mila euro all'anno, preceduto in giunta anche da Cristian Fanesi. La cultura del bello, l'accolta dei 15, ormai ha compiuto 70 anni, l'amore per l'arte rinacque dopo la guerra mondiale, retrospettiva di Antonioni. Ancora dal Corriere, gag esileranti e brillantezza, stregati dal San Costanzo Show. Si parla del film in uscita nei prossimi giorni nelle sale cinematografiche di Fano, stregati dalla Bruna. Il terzo film in vernacolo fa nuovamente centro, il regista Enri Secchieroli. Questa è la fotografia, un fermo immagini dei sindaci Massimo Seri, Matteo Ricci e Maurizio Mangialardi con l'attore Massimo Pagnoni. E ancora andiamo sull'altra pagina di Fano. Fondo anticrisi per 70 mila euro, rifinanziato dal comune di Fano per aiutare le famiglie senza lavoro nella gestione quotidiana. Contributi per l'affitto, per la spesa, le bollette a favore dei nuclei con redditi ISEE di 9 mila euro. Questa è la pagina del Corriere. Andiamo sulla Valle del Cesano. 400 milioni dal governo per bloccare 8 movimenti franosi. Lavoro in corso per mettere in sicurezza il territorio. Siamo a piagge dal rischio idrogeologico. Da Senigallia, video in aula, non è un fatto isolato. Dopo il caso del ragazzino che ha filmato il fondo schiena della professoressa, riesplode la polemica. Genitori e insegnanti a confronto sui cellulari in classe. Richieste di provvedimenti e severe punizioni. Elon Giometti dice non pensavamo di dover affrontare la questione anche nelle scuole medie. Ancora l'altra pagina di Senigallia. Ladri scatenati nei cimiteri, rubano rame, fiori e oggetti. Nel Mirino. Anche le auto in sosta a Montignano di Velto. Pure il cancello. E allora attenzione, lo dice e prendiamo spunto dal custode. Furti di portafogli, ma i più insopportabili sono quelli sulle lapidi. Certamente. Però un consiglio, visto che tutti quanti andremo al cimitero nei prossimi giorni a fare una visita ai nostri cari. Lo dicono le forze dell'ordine. Non lasciate nelle auto parcheggiate fuori dal cimitero borse incustodite, chiavi e quant'altro. Portate via tutto. Non lasciate e non date la possibilità a qualcuno di farci un pensierino. Quindi evitate di tenere oggetti all'interno della propria auto. Soprattutto in vista. La pagina di Fano del Corriere Adriatico. Non solo una piscina, un centro con tre vasche. È un passo il sogno atteso da vent'anni. A Gimarre il presidente della fondazione Fabio Tombari di Fondazione Cassarello Risparmio svela il progetto. Sorgerebbe in un'area comunale in Via Mattei ma c'è il nodo di Banca Mar. Che cimitero a pezzi è una vita che si aspetta di fare i lavori. Dal comune replicano la denuncia dell'elettrice. Progetti già pronti, mancano solo i soldi. Infiltrazioni, problemi strutturali e di impiantistica. Serve un intervento radicale. Ospedale contro documento per affossare muraglia. È meglio fosse o segliore. Intanto il PD litiga. Ricci, arrogante, seri invece, testardo. Sulla riforma costituzionale c'è il comitato del no che si è presentato a Fano ieri. I cittadini voteranno un testo del quale non sono in grado di comprendere gran parte del contenuto. Dice Enzo Cicetti, ex sindaco di Fano. In alcuni comuni sul terremoto, ancora la pagina di Pesaro, in alcuni comuni oggi scolari a casa, Urbino, studenti atterriti, tutti fuori in Piazza della Repubblica. È caduto l'intonaco, il fronte dell'entroterra, con situazioni ancora tutte da verificare, da monitorare. Il provvedimento, a disposizione il palazzetto dello sport per gli studenti che sono appunto sotto shock. Ancora scuole, siamo di nuovo sul Corriere Adriatico, scuole, siamo a Pesaro, scuole e centro storico, due milioni in tre anni. No, scusate, siamo a Fossombrone. Il comune di Fossombrone ha approvato il piano delle opere. Poi, ancora dal Corriere Adriatico, Urbino, guardate questa fotografia, mattanza bianca, 30 pecore sbranate, allarme lupi per fattorie e agriturismi, massacro nella campagna Urbinate, animali dilaniati, altri morti invece per paura, ingenti sono i danni. Ormai è uno sterminio, dicono gli allevatori, senza che ci sia la possibilità di potersi difendere. Numerosi esemplari erano gravidi e avevano un valore medio di 220 euro ciascuno. Direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale Occhio alla Notizia alle 20.30 e subito dopo una puntata in diretta di Missione Salute, alla quale potete partecipare anche voi in diretta, facendo delle domande ai nostri medici, ai nostri esperti. Ebbene, ci fermiamo qui, dicevo, come sempre vi invito a rimanere in contatto con la nostra redazione attraverso i contatti che già conoscete, Whatsapp al 338 49 68 250 oppure scaricatevi l'applicazione che trovate su Android o sull'Apple Store. È un'applicazione gratuita che vi dà la possibilità di rimanere sempre, costantemente aggiornati e in contatto con la nostra redazione. È un'applicazione gratuita. E poi il sito internet, occhialanotizia.it. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.